Terza corsa premio Sabaudo Parca, il clou del pomeriggio, un miglio per anziani di categoria B e C, sono solamente sei al via. Vediamo il campo dei partenti con l'uno Lepoli Strivi, Vincenzo D'Alessandro Junior, il due Radice del Nord, Lucio Becchetti, il tre Olimpo, WF, Giorgio D'Alessandro Junior, il quattro Migenne, Francesco Pettinari, il cinque Rocco Griff, Biagio Loverde, il sei. Maestrale spin, Mario Minopoli Junior. Rinunciano al lancio Olimpo, WF e maestrale spin. C'è lotta fra Radice del Nord, Migenne e Rocco Griff che per ora desiste al lato di Lepoli Strivi. Prosegue la lotta fra Radice del Nord e Migenne, imboccando la prima curva c'è il via libera di Radice del Nord a Migenne, il lancio però è stato in 13,3. Migenne ha speso per passare Radice del Nord dalla terza posizione Lepoli Strivi. Accenna a controllare Rocco Griff, al cui interno c'è Maestrale spin in coda Olimpo WF. Ora avanza deciso Rocco Griff, prende l'anticipo da Radice del Nord che torna in avanti dopo mezzo giro, però molto molto veloce. 36,5 i primi 500 metri, ora Rocco Griff va deciso su Radice del Nord, ancora un cambio al comando con il favorito che ora è in testa all'attacco della seconda curva, però c'è stato parziale davvero deciso. Rocco Griff cerca di rifiatare sulla curva di destra, vediamo come giungerà al paletto di metà gara. Lo fa in 59,5, quindi ha potuto rallentare dopo i primi 600 metri velocissimi, nel frattempo avanza a largo Lepoli Strivi che offre la schiena a Maestrale spin e Lepoli Strivi che ora va su Rocco Griff. Lo attacca al completamento del primo giro da 1,14,4 in lotta Rocco Griff e Lepoli Strivi, seguiti da Radice del Nord che viene completamente appaiata da Maestrale spin. Quindi Migenne che è in fuori Olimpo WF con Rocco Griff che reagisce bene all'Epololi Strivi, Maestrale spin che accena la terza ruota, Radice del Nord che tiene benissimo il contatto con il leader. Quando siamo all'ingresso e in retta d'arrivo, Rocco Griff in vantaggio su Radice del Nord, Migenne che cerca di filtrare dalla corda, Maestrale spin al centro pista, è in vantaggio Rocco Griff. Prova ad inseguirlo Radice del Nord, Rocco Griff però allunga nei confronti Radice del Nord e Maestrale spin, è ancora in vantaggio Rocco Griff. Ci prova Radice del Nord, c'è lo scatto di Radice del Nord che va su Rocco Griff che si difende ancora, i due in lotta testa a testa sul palo, Rocco Griff si salva da Radice del Nord. Poi Maestrale spin, 1,57,6 sul mio cronometro, quindi 1,13,5. La media ha onorato il pronostico Rocco Griff insieme a Biaggiolo Verde, ma il figlio di Varenne davvero è stato impegnato allo stremo nel finale da Radice del Nord che continua a migliorare di corsa in corsa e oggi ha fatto davvero paura a Rocco Griff. La vediamo che recupera negli ultimi metri palmo a palmo, finisce a mezza testa dall'avversario che comunque si salva. 5, 2, 6 l'arrivo ufficioso della terza di Capannelle. Grazie.